Antonio, Antonio, sono un attimo, sono tutti uguali 3, 2, 1, vai via non staccare la bocca così, bocca attaccata un minuto si, si e su di se non daremo a Elio si, si vai Antonio, vai Antonio, vai Antonio, sacrippiano benissimo, ultimo dai, dai, dai ok vai papà vai papà 2, 0, 6 2, 0, 6